questa maglia con questo scudetto della nazionale italiana è la maglia azzurra che si rifà probabilmente alla nazionale più bella di tutti i tempi quella dei mondiali del 1978 non la più vincente ovviamente ma la più bella quella che ha lasciato un segno nel cuore degli italiani e che poi fu praticamente la prova generale per i mondiali 24 anni dopo ma quella nazionale non nasce per caso nasce con un lungo percorso e ci fu un regista occulto di quella nazionale ma qui dobbiamo fare un passo indietro abbastanza robusto Gigi Peronace è un signore che nasce a Soverato in Calabria appassionato di calcio anche una modesta esperienza da portiere nel primissimo dopo guerra nei primissimi anni del secondo dopo guerra quindi parliamo di 45 46 anche qualche presenza con la regina poi lascia il calcio giocato e inizia a diventare un dirigente è un dirigente che fa strada è un dirigente che lascia il segno un dirigente che nel tempo ma in maniera abbastanza rapida lascia traccia del proprio passaggio alla Juventus al Torino nei rapporti con la federazione e proprio nei rapporti con la federazione italiana gioco calcio il suo percorso che lo porta in Inghilterra tra le altre cose sulle tracce niente meno che del maestro Ferguson il appunto questo questo percorso lo porta a essere sempre più addentro alle vicende del calcio italiano sempre più considerato in federazione al punto che quando dopo il 1974 la nazionale italiana è da rifondare perché il vecchio blocco fatto di un calcio antico superato della nazionale di valcareggi fatto di rivera mazzola buoninsegna e anche a che chinaglia il vecchio blocco appunto viene messo da parte in favore di un calcio più moderno in qualcosa che provasse a inseguire il calcio totale degli olandesi che in italia praticava soltanto da qualche mese soltanto il torino di radice appunto quando c'è da rivoluzionare tutto la federazione mette il l'operazione in mano a un regista occulto per l'appunto gigi peronaggio è il 1976 quando gigi peronace che aveva già caldeggiato la candidatura di enzo berzot insieme a fulvio bernardini dal 74 al 76 spinge sull'acceleratore affinché berzot resti unico selezionatore a capo della della nazionale l'operazione gli riesce e parte l'operazione mondiale 78 con la qualificazione in ballo è un girone difficile girone piccolo perché c'è il lussemburgo la finlandia e l'inghilterra l'inghilterra in quegli anni è uno scoglio che sembra insuperabile per la nazionale azzurra ma nel novembre del 76 c'è la prima svolta si gioca a roma il nuovo stadio olimpico stracolmo in una partita attesissima dal paese che per motivi misteriosi l'unica nella storia del calcio moderno non viene trasmessa in diretta dalla rai per motivi legati a una sorta di austerità soltanto indifferita due ore dopo il paese resta con il fiato sospeso l'olimpico ribolle di passione e quella nazionale di berzo mette per la prima volta il punto esclamativo sulla sulle competizioni che contano vince 2 a 0 il vantaggio è segnato da antonioni con sua punizione con tiro deviato in realtà da keegan alla star degli inglesi e il 2 a 0 in realtà è il la rappresentazione plastica del del fatto che qualcosa stia cambiando di importante nel calcio italiano causio benetti se ne va sulla sinistra benetti mette questa palla in mezzo e nel cuore dell'area britannica roberto bettega in un gol che è diventato copertina sigla decenni dopo decenni di numerosissime trasmissioni televisive sportive dicevo roberto bettega si abita in pieno tuffo in piena aria di tu di testa in tuffo e la mette dall'altro angolo 2 a 0 l'inghilterra questo è il primo punto esclamativo dicevo che porta la nazionale praticamente verso l'argentina sì poi c'è anche il ritorno perso in inghilterra ma alla fine dei giochi nella negli ultimi mesi al 1977 esattamente il 3 di dicembre la nazionale in casa contro il lussemburgo 3 a 0 all'olimpico stacca appunto il biglietto per i mondiali di argentina io c'ero l'olimpio avevo dieci anni quella immagine di un paese che vuole rinascere perché in in quegli anni gli anni 70 rappresentano il momento più buio del del paese e siamo in piena in piena i pieni anni di piombo terrorismo le bombe nelle piazze sono alle spalle ma non troppo dicevo quella nazionale insieme alla all'epopea della nazionale di tennis italiana guidata adriano panatta ma questa è un'altra storia dicevo quella nazionale rappresenta il in qualche maniera l'emblema del paese che ancora non ci crede e quella nazionale è giorno dopo giorno costruita da questa abbinata straordinaria berzot peronace e peronace è sempre è sempre un passo indietro è sempre alle spalle ma nel frattempo peronace è diventato il direttore generale della nazionale di calcio è quello che ha voluto berzo lui ha voluto berzo in panchina e quindi si crede ripeto quest'asse inscindibile tra i due alla fine arriva il momento di partire per 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 l'argentina ma la nazionale non brilla addirittura l'ultima amichevole all'olimpico contro la jugoslavia prima della partenza è uno 0 0 e la nazionale esce subissata dai fischi dal dal dallo stadio dal campo di gioco del dello stadio olimpico le prime interviste subito dopo la gara sono sono nervose berzot mastica maro comunque si parte si vede in argentina in argentina nel 1978 in giugno naturalmente è inverno la comitiva italiana alloggia a mar del plata ma prima di andare a mar del plata si ferma a buenos aires a giocare un amichevole ecco questa amichevole probabilmente è lo spartiacque ulteriore per quello che succederà è quella probabilmente ancora in cui gigi peronace mette un asso ancora un altro asso in maniera invisibile la nazionale a buenos aires gioca un amichevole contro il deportivo italiano una formazione modesta di serie b argentina la squadra degli italiani tenete presente che già all'epoca circa il 60 per cento della popolazione argentina era di origini più o meno dirette italiane quindi 50 mila persone allo stato della bomboniera allo stato del boca junior già allora abbastanza fatiscente ma comunque un catino come adesso per per vedere all'opera questa nazionale ambiziosa la nazionale del dopo rivera e mazzola per intenderci ma anche lì la nazionale fa fatica contro questa modestissima squadra la partita resta inchiodata sullo 0 a 0 a lungo la sblocca roberto bette che ancora con un gol favoloso un cross da sinistra lui stoppa questa palla di petto nel cuore dell'aria con le spalle alla porta sta palla scende e lui la lascia scendere se la lascia scendere alle spalle poi di tacco al volo la mette all'incrocio ma al di là di questa perla la squadra proprio non riesce a giocare ma lì arriva un'intuizione un'intuizione della quale avevano parlato a lungo berzot e peronace i quali avevano un contatto continuo costante tra di loro nel frattempo ovviamente peronace da direttore generale era il capo delegazione azzurra a quei mondiali quindi il dirigente più alto in grado l'intuizione è quella di rinfrescare improvvisamente questa squadra e peronace insiste con berzot devi cambiare qualcosa devi farlo e berzot nel secondo tempo di italia deportivo italiano improvvisamente inserisce cabrini e rossi sono due poco più che ventenni ventunenni che stanno lasciando i segni il campione italiano ancorché giovanissimi con la maglia della juventus però in quel momento levare gente che ha comunque maturato una certa esperienza maldera il terzino sinistro del milan che era stato titolare fino a quel punto graziani il centravanti del torino campione italia due anni prima appunto con la maglia granata era un'operazione non non facile tanto più che la nazionale da qualche settimana e improvvisamente orfona anche del suo leader carismatico e storico in campo cioè giacinto facchetti il libero dell'inter che era stato capitano della nazionale azzurra ai mondiali del 74 ai mondiali del 60 e agli europei vinti del 68 del 70 scusate agli europei vinti del 68 questa cosa evidentemente toglie un altro punto di riferimento scirea diventerà scirea ma ancora non ha l'esperienza internazionale e il carisma di facchetti quindi togliere altri due campioni affermati come maldera e graziani e inserire due ragazzini per quanto promettenti come cabrini e rossi non era operazione da poco però nace suggerisce a berzot di farla questa operazione e lui la fa intorno al cinquantesimo cinquantacinquesimo del secondo tempo cabrini e rossi fanno il loro esordio in questa partita italia deportiva è un esordio che loro fanno in maniera quasi inosservata perché l'italia gioca talmente male fa il paio con lo 0 a 0 in uscita dall'italia contro la jugoslavia che le critiche ovviamente si accaniscono contro la squadra azzurra e qui ancora una volta per un acce ci mette l'asso il giorno dopo l'amichevole mentre la squadra si sta per trasferire da buenos aires a mar del plata dove giocherà la prima gara contro la francia quel giorno lì appunto è previsto il consueto appuntamento incontro con la stampa tra berzot e gli inviati italiani ed è una sorta di resa dei conti perché è ben noto che gli oppositori di berzot sono tanti e a questo punto alla vigilia dei mondiali sono pronti in qualche maniera a metterlo già sotto processo gigi peronace se ne inventa una delle sue gigi peronace era uno calabrese per l'appunto e quindi scialone possiamo dire sorrideva con la stampa scherzava li portava a cena e riusciva a gestire la parte politica e la parte interpersonale si presenta lui in conferenza stampa dicendo che berzot aveva avuto un malore anzi un abbassamento di voce dopo la partita con l'amichevole disputata poche ore prima e quindi non poteva essere presente però avrebbe fatto lui avrebbe fatto peronace naturalmente naturalmente non è che ci credano tanto i giornalisti italiani però si devono accontentare questa cosa ovatta berzot e la nazionale e consente di prendere tempo e il 2 di giugno del 1978 festa della repubblica e non è una festa qualunque per l'italia il sequestro moro si è concluso tragicamente soltanto da 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 meno di un mese nel maggio appunto e quella festa della della repubblica coincide con l'esordio della nazionale mondiale mal del plata mar del plata italia francia a sorpresa enzo berzot rivoluziona la formazione e quindi fin dall'inizio ci sono dentro cabrini e paolo rossi 40 secondi esattamente 40 secondi di gioco e martellini nando martellini lo storico telecronista della rai mentre ancora sta snocciolando con un po di lentezza così quasi per mettere a proprio agio i tifosi telespettatori a casa le formazioni improvvisamente deve interrompere la sua presentazione non solo delle formazioni ma anche dei mondiali dell'ambiente erano molto bravi telecronisti dell'epoca a raccontare l'ambiente deve interrompere perché nel frattempo la francia è andata in vantaggio e la francia è già in vantaggio peggio di così non poteva cominciare il mondiale per l'italia 40 secondi e l'italia è già sportivamente nell'incubo tutti si aspettano quello che predicono in tanti da mesi cioè il crollo definitivo eppure la squadra si mette a giocare si mette a giocare e sulla intuizione dell'asse peronace Berzot improvvisamente trova l'infa perché questi due Cabrini e Rossi rivitalizzano tutta la squadra Cabrini lascia i solchi sulla sulla fascia sinistra contiene e spinge difende e attacca sembrano due e dall'altra parte in attacco Bettega che comincia ad essere in là con gli anni la cui classe cristallina però è ancora fulgida ma ha bisogno di movimento attorno a sé si ritrova Rossi e l'asse Rossi Bettega Bettega Rossi sarà una costante per tutto il mondiale per farla breve prima Rossi e poi Zaccarelli nel secondo tempo ribalta il risultato l'italia vince con la francia per 2 a 1 ma non solo vince ma anche convince perché la francia oltre quel gol dopo 40 secondi non ha fatto altro la prova del 9 arriva tre giorni dopo contro l'Ungheria non c'è partita 3 a 0 ancora Rossi Bettega e Benetti la nazionale piace l'italia come sempre dopo averla lasciata partire tra mille critiche contestazioni poco a poco se ne innamora e questa è una costante delle squadre di Berzot la terza partita per stabilire la supremazia del girone e con i padroni di cazzo dell'argentina e non è una partita come le altre non è perché non può esserlo per una serie di motivi il primo motivo è come abbiamo detto è la fortissima presenza di italiani in argentina è un derby nel derby il secondo è dato dal fatto che in quegli anni in quei mesi in argentina si sta consumando in maniera più o meno occulta non si saprà mai quanto nascosta e quanto consapevole il dramma dei desaparecidos che a pochi metri dallo stadio monumentale di Buenos Aires morivano nell'esma nella palestra dell'esma nella scuola di meccanica navale e nessuno sapeva niente e nessuno sapeva niente o per lo meno nessuno diceva di saper niente e quindi la possiamo dire la partita riveste un carattere che va ben oltre aspetto sportivo e poi c'è un altro aspetto siamo a Buenos Aires la nazionale italiana ha giocato le prime due gare a mar del plata la terza si gioca a Buenos Aires chi vince il girone nelle previsioni di chi ha previsto il il girone quindi l'argentina resta a giocare a Buenos Aires allo stadio monumentale chi non lo vince arriva secondo e va a giocare a rosario succede di tutto per ragioni di opportunità politica e anche per giocando ogni tre giorni tre giorni per i consigli di qualcuno che suggerivano di non fare stancare troppo i titolari della della nazionale si fa strada la corrente che vuole che Berzot faccia giocare le seconde linee contro l'argentina tanto la qualificazione è già garantita c'è solo un discorso di primo secondo posto nel girone è un atto anche di eleganza viene detto lasciare il primo posto all'argentina così resta in casa succede un casino succede un casino perché alcuni senatori non ne vogliono sapere Berzot indeciso a un certo punto alla fine di una lunghissima riunione con Peronace e ancora una volta Peronace a indirizzare il suo Enzo Berzot escono da lì d'accordo si gioca con la formazione titolare e si va per vincere Zoff Gentile Cabrini Benetti Bellugi Scirea Caosio Tardelli Rossi Antonioni e Bettega 11 su 11 la formazione delle prime due giornate dall'altra parte l'argentina per nulla intenzionata ovviamente a lasciare né il primo posto né l'imbattibilità né tantomeno la sede di Buenos Aires schiera la formazione principale Figlio Olgin Tarantino Galvan Gallego Passarella Bertoni Ardiles Kempes Valencia e Ortiz allenatore El Flaco Luis Cesar Menotti si gioca al Monumental che è lo stadio Liberati detto Monumental davanti a 77.213 spettatori dichiarati in realtà sono almeno 90.000 un chiasso infernale tutti abbiamo negli occhi questi papelitos questi pezzi di carta bianche e azzurri che riempiono il cielo di di Buenos Aires con la partita che inizia alle 19.15 ora di Buenos Aires alle 23.15 in Italia il primo tempo è 0-0 e mezzanotte e 37 in Italia quando improvvisamente con una fiammata tipica dei contropiedi azzurri riparte la nazionale italiana Bettega Rossi Bettega tiro gom Argentina 0 Italia 1 e il sessantasettesimo minuto ne restano sì e no 23 per provare a rimediare l'Argentina non ha più neanche un fiato per provare a pareggiare l'Italia sbanca il Monumental di Buenos Aires manda in esilio i padroni di casa dell'Argentina e si propone al mondo come l'Italia accreditata per giocarsi fino in fondo in mondiale e perché nel frattempo l'Italia gioca come detto l'Italia fa un bel calcio un gran bel calcio e allora continuando a restare lì sempre sull'intuizione e sull'asse peronaggio e Berzot peronaggio aveva protetto Berzot dalla stampa Berzot si era lasciato proteggere e aveva avuto la forza di proporre questo nuovo gioco con Cabrini e Rossi dentro e allora comincia la seconda fase secondo gironcino un giro in un girone tosto molto tosto Germania Austria Olanda si comincia con la Germania l'Italia che solitamente squadra femmina attende la Germania ma in questo caso no in questo caso l'Italia fa gioco chiude la Germania nella sua nella sua area e la sua metà campo per tutta la partita ma non riesce a cavare un ragnolo al buco finisce 0 a 0 poi si gioca con l'Austria 1 a 0 gol di rapida di chi ma manco a tiro di Paolo Rossi resta l'Olanda e siamo poi a un passo dalla finale vincendo con l'Olanda siamo in finale e le cose si mettono bene va in vantaggio l'Italia 1 a 0 grazie a un autogol ma poi gli olandesi trovano due tiri da lontanissimi prima Brands e poi Hahn e per questi due tiri Zoff sarà messo in croce anche perché poi nella finale terza e quarto posto prenderà altri due gol da lontano da Dirceu e Neligno che riprodurranno in maniera fedele il cliché di Italia Olanda anche in Italia e Brasile finirà 2 a 1 per l'Olanda la partita di prima e 2 a 1 per il Brasile la partita successiva che portò l'Italia al quarto posto questo quarto posto in realtà è il quarto posto più importante della storia dell'evoluzione del calcio italiano perché il quarto posto è propedeutico ai mondiali dell'82 ed è rappresenta l'immagine plastica di questa Italia che si sta costruendo con solo con pochi ritocchi sull'asse Berzot per Onage c'è in mezzo l'europeo dell'80 un europeo strano che l'Italia non riesce a giocare da protagonista perché è squassata dallo scandalo calcio scommesso e con relative squalifiche tra cui Palorossi e poi ci saranno i mondiali dell'82 che quella squadra andrà a vincere sul finire del 1980 il 29 di dicembre a 55 anni mentre la nazionale italiana è in ritiro a Roma pronta a partire per il mondialito in Uruguay Gigi Peronace muore stroncato da un infarto tra le braccia di Enzo Berzot soltanto un anno e mezzo dopo Enzo Berzot alzerà la coppa del mondo probabilmente anche alla memoria di Gigi Peronace Grazie